Prima fila, Magazine. Oggi parliamo di un compleanno, il compleanno dell'Orchestra Senza Spine, che noi intervistammo dieci anni fa nella loro prima conferenza stampa. Sono passati dieci anni, uno dei due direttori dell'Orchestra Senza Spine, Tommaso Sardi, è con noi. Tommaso, congratulazioni per questo compleanno. Che cosa avete preparato per la prossima stagione dell'Orchestra Senza Spine, quella del 2023? Beh, intanto grazie, grazie per gli auguri, grazie per esserci sempre stati, perché è vero, ormai sono passati dieci anni, siamo dieci anni più vecchi e siamo molto felici e orgogliosi di essere arrivati a questo traguardo, che può sembrare anche piccolo, perché dieci anni non sono poi così tanti, ma per noi sono tantissimi. Un progetto culturale che si riesce a sostenere, e anzi è sempre più in evoluzione, la nostra comunità, il nostro pubblico ci segue e continua ad ampliarsi e quindi per i dieci anni abbiamo preparato un programma davvero speciale, speciale sia in qualità che in quantità. Sono dieci appuntamenti divisi in tre macro aree, quella più importante, corposa, è quella dedicata all'opera, si chiama Opera al Centro, dove ci sono previsti quattro titoli. Il primo è la Bohème, il secondo il signor Bruschino, il terzo speciale appuntamento che non sarà al Teatro d'Use come tutti gli altri appuntamenti, ma sarà in una location molto particolare, per la prima volta sotto tendone da circo, ed è Pagliacci, e la quarta opera il Trovatore, che porta avanti la trilogia verdiana che abbiamo iniziato l'anno scorso con il Rigoletto. E gli altri appuntamenti invece, nella categoria sinfonica a colori, sono tre appuntamenti sinfonici con una grande accessibilità e divertimento sul palcoscenico, e poi infine gli spettacoli dedicati a famiglie e bambini, che sono i concerti animati. Devo dire che io sono molto contento di essere qui con l'Orchestra Senza Spine nuovamente dopo dieci anni, perché il loro approccio alla musica classica nel rapporto con il pubblico è stato sempre fin dall'inizio molto pop, il che è una cosa molto positiva, perché voi avete avvicinato alla musica classica tante persone che magari la musica classica l'avevano solo sfiorata, o magari non erano nemmeno mai andati a un concerto di musica classica. Questo è un merito che vi va riconosciuto assolutamente, e quando tu parlavi del tendone da circo e fare l'opera sotto il tendone da circo, io posso solo immaginare i puristi che cosa possono immaginare o pensare in questo momento. Però è anche questo uno dei segnali della vostra estrosità, usiamo questa bella parola poco usata ultimamente, anche l'idea appunto di fare un concerto come Film Music, che è un vostro cavallo di battaglia, voi portate in giro delle serate, si chiamano Film Music, in cui suonate le colonne sonore dei più famosi film, amati naturalmente dal grande pubblico, però dal vivo, con l'Orchestra dal vivo, il che è un impatto effettivamente notevole. Quindi insomma, complimenti, congratulazioni per questa nuova stagione e tanti auguri. Grazie, tanti auguri, li prendiamo molto volentieri perché ne abbiamo bisogno, e speriamo proprio che questo programma inviti le persone a superare quella che può essere la paura di avvicinarsi alla musica classica, perché è proprio questo il nostro scopo, essere senza spine. Quindi avvicinatevi, venite in quelle che sono le location che ritenete più adatte, perché ci piace molto spostarci e decontestualizzare quello che è il contenuto, e quindi ci potete trovare in teatro, ma come dicevi, ci potrete anche trovare sotto un tendone da circo. I puristi potranno lamentarsi, ma noi siamo felici perché comunque abbiamo sempre dalla nostra parte la qualità. E questo ci permette di osare e andare anche contro quelle che sono, tra virgolette, le regole del purismo legato alla musica classica, anzi, esperimenti che speriamo siano sempre vincenti. Grazie. 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 Grazie.